La fusione tra Cosenza-Renda e Castro Libero sembra la bella di Torriglia. In questo caso tutti ne parlano, ma è come se nessuno la volesse. Nei giorni scorsi i consiglieri regionali del Partito Democratico della provincia di Cosenza, Franco Iacucci e Mimmo Bevacqua hanno aperto al dialogo con il centrodestra sul progetto di Città Unica, contestando però la proposta di legge regionale che ieri è stata approvata in commissione. Ed in questo caso il PD ha votato contro. Perché, come ha ribadito ancora una volta il consigliere regionale Dem Franco Iacucci, favorevole alla Città Unica, si tratta di una proposta di legge che non parte dal basso e non sono stati coinvolti i consigli comunali delle tre città interessate. Noi pensiamo che è un processo naturale, quasi irreversibile, perché di fatto urbanisticamente c'è la fusione, c'è la Città Unica. Dobbiamo costruirla, dobbiamo costruirla bene, dobbiamo costruirla con i cittadini, con le associazioni, con i consigli comunali, con i sindaci che fanno parte del progetto della fusione. Quindi noi pensiamo a questo. Io credo che questa cosa l'abbiamo chiesta. Il centrodestra deve fare una riflessione, che non può essere una sfida la costruzione della Città Unica, invece deve essere un processo che coinvolge, che diventa patrimonio di tutti. Noi pensiamo a questo. Noi come PD pensiamo anche che il PD non può essere contro la Città Unica. Noi non vogliamo fare una battaglia di retroguarda, vogliamo cambiare la legge e vogliamo ritornare a parlare con chi poi è protagonista, deve essere protagonista della fusione, che sono i cittadini.